Un incontro al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per attivare una strategia comune di contrasto al fenomeno del caporalato e allo stesso tempo avviare un percorso collaborativo teso alla definizione di un protocollo d'intesa in materia di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e quanto hanno chiesto attraverso un documento congiunto i sindacati confederali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti. Nella missiva è chiesta l'attivazione di un percorso teso al rafforzamento dell'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, contrastando così il lavoro sommerso e cogliendo le peculiarità del settore con il coinvolgimento dell'ARPAL e degli enti bilaterali agricoli territoriali. Il fenomeno del caporalato è un argomento complesso e come tale va trattato, cercando di porre in essere azioni, corali e strategie di medio-lungo termine che agiscano su più livelli e variabili. Ha spiegato il segretario generale di Wila Puglia, Pietro Buongiorno, che ha invitato a riflettere sul fatto che il fenomeno del caporalato non riguarda solo gli immigrati ma anche i cittadini italiani. Di qui l'esigenza di agire su un doppio livello. Perché ha chiusato Buongiorno? Quando parliamo di lavoratori irregolari parliamo di gente che non è in possesso di documenti e di permessi di soggiorno.